Ciao ragazzi, siamo tornati con un nuovo allenamento, un allenamento un po' più duro anche da seduto. Uno dice ma è possibile? Certo che è possibile, sono la Jill, questo è now.jilcooper.it, è una vera e propria palestra per tutti i livelli, anche le persone che magari non possono lavorare in piedi sul trampolino o quant'altro, potete sempre fare qualcosa anche da seduto, specialmente se state recuperando magari da un infortunio, ok, di un mal di ginocchio, mal di schiena, le nette da seduti, ok, e allungo, due, tre, cambio, quattro, tre, due, bello, veloce, due, tre, quattro, uno, due, tre, e quattro, continui, due, tre, quattro, uno, rimango qua, occhio, e chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, ancora, quattro, tre, due, e uno, vado, and touch, 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 allunga, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rimango qua, qua, chiudo, qua, chiudo, dai, riscaldamento, continuiamo ancora, quattro, tre, due, rimango in centro, marcia, 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 ok, quattro, tre, due, solleviamoci, uno, due, tre, quattro, scendo giù, 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 un appoggio tra le mani e i piedi, tre, quattro, and giù, 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 altro due volte, uno, due, tre, quattro, scendo giù, due, tre, quattro, and su, due, tre, quattro, scendo giù, vado in estensione, di qua, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, and vado, tiro, vado, tiro, vado, tiro, quattro, ancora, quattro, tre, due, e touch, vado, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, cambiamo lato, vado, vado, chiudo, vado, vado, chiudo, vado, tiro, quattro, ancora, tre, ancora, due, ancora, rimango centro, e marcia, 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 girami, gira, 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 ok, perché comunque il movimento ci risalda, anche se non siamo in piedi, ok, possiamo proprio riscaldarci comunque, andiamo, uno, due, chiudo, ok, uno, due, chiudo, ancora, uno, due, chiudo, spinta, uno, due, chiudo, vado lento, su, sping, su, spingo, su, spingo, su, veloce, vado, vado, spingo, vado, 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 ancora, rimango fuori, and giro, 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 giro con le braccia, muoviti di quelle gambe, vai, muoviti un po' le gambe, vai, 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 4, 3, 2, porta le braccia in avanti, 2, apro, 2, apro, 2, apro, 2, ancora, voi che cominciate a comunque sentire un po' di riscaldamento, ok, che state facendo un lavoro comunque anche da seduti, qui, ancora, ancora, 4, 3, 2, e 1, ok, porta la gamba destra in avanti, sinistra indietro, ok, siamo proprio qua, ok, io applicerò una piccolissima pressione sulle gambe anteriore concentrandomi sul talone, ok, and, vado su, and, su, è piccolissimo, su, su, ancora, 4, 3, 2, più veloce facciamo, usi anche le braccia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, torno al centro, and, gira le braccia, and respira, avanti, 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 indietro, avanti, avanti, indietro, ancora, 4, 3, 2, 2, avanti, 2, indietro, vado, avanti, dietro, avanti, dietro, avanti, dietro, avanti, dietro, ancora, 4, 3, 2, e dammi un V, su, giù, su, 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 ancora, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, braccia giù, poi, cambia la gamba, cambia la gamba, mani laterali, ricordate che noi dobbiamo spingere sulle gambe davanti, ok, cominciamo lentamente, spingo in alto, risalgo, su, su, 2, ancora, 3, 4, ancora, 5, 6, 7, gambe, braccia insieme, andiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, tornano avanti, tornano avanti, lo sentite? Oh yeah, oh yeah, oh yeah, muovi le gambe, lo sentirai tutto? Gira le braccia, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 2, vantбу, indietro, eh, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ancora, 4, ancora, 3, ancora, 2, andiamo su e giù in V, Su, andiamo, su, spinta, su, spinta, ancora, su, 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 continuiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, spingo giù, giù, spingo avanti, spingo e mi sollevo poco poco dalla sedia, ma poco poco, ok? Sto lavorando sui glutei, senti come si attiva tutto il quadro, ok? Proprio nelle nostre gambe, glutei, piccolo, piccolo, lo vedete la contrazione? Lo vedete? Ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, torna indietro, braccia, va, gira, 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 ancora, 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 gira, gira. 4, 3, 2, avanti, 2, indietro e mi va, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ancora, 4, 3, 2, V up, andiamo, 1, 2, 3, 4, abbiamo innali stesi, comunque, dai dai dai, fai il lavoro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Grazie ragazzi, grandissimo allenamento anche sulla sedia qui a now.gircuber.it e come ti ho detto, ogni giorno sto provando di inventare nuove ginnastiche, nuovi modi per allenarci, anche nelle ritaglie di tempo, anche se dobbiamo passare, non so, un momento di recuperare la forza di un genocchio, di una schiena. e io spero che vi state trovando bene qui su now. Scrivetele i vostri commenti sotto questo video e chiedetemi, 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 Gigi vorrei più questo, vorrei più quest'altra cosa. Io proverò, mesi dopo mesi, di soddisfarvi. Vi voglio bene e grazie per seguirmi qui e ti aspetto al prossimo allenamento insieme. passate veramente una giornata pazzesca, non solo bella, pazzesca, baci dalla G. passate veramente una giornata pazzesca, non solo bella, pazzesca, non solo bella, pazzesca.